Buongiorno a tutti, conferenza stampa prima della gara con l'Ascoli, iniziamo da Ferralpisalot TV. Buongiorno mister, la squadra arriva da due sconfitte in cui però sul campo forse si meritava un esito differente. Come stanno i ragazzi a livello mentale e su cosa avete lavorato maggiormente in questa settimana? Se c'è qualcosa su cui vi siete concentrati di più? Ci siamo concentrati sul fatto che le prestazioni rimangono buone però non basta e quindi bisogna crescere, bisogna cercare di evitare quegli errorini che ci pesano poi nel discorso del risultato e continuare a lavorare nella maniera giusta, come ho detto, cercando di fare questi miglioramenti perché è logico che poi alla fine quello che conta è il risultato e quello che stiamo facendo c'è una crescita evidente però ancora non basta e quindi dobbiamo assolutamente crescere nel più breve tempo possibile. Partita con l'Ascoli, è uno scontro diretto secondo lei decisivo per il campionato? No, decisivo no perché mancano ancora troppe partite quindi quando ci sono così tante gare ancora da giocare di decisivo non c'è nulla. È certo che è una partita importante ma ovviamente come lo sono tutte perché quando hai una situazione come la nostra di classifica è normale che ogni gara risulta essere importantissima e quindi dobbiamo cercare di fare di tutto per provare a fare il risultato contro una squadra sempre molto difficile da giocarci contro perché le squadre del mister, di mister Castori, sono ben delineate come atteggiamento, come una squadra che corre, che lotta, che non molla, che è forte a fare determinate cose perché le caratteristiche delle squadre del mister sono così e quindi è logico che sabato più che mai occorrerà fare una gara di grande intensità, di grande attenzione, di rabbia, di cattiveria perché la partita sicuramente imporrà questo. Quindi a livello di qualità può essere anche magari una partita più sporca rispetto a quelle con Palermo e Bari? Sicuramente sì, sporca nel senso che ci saranno anche tante seconde palle, tante palle mezze e mezze dove bisogna cercare di essere reattivi, dove bisogna cercare di vincere i duelli, i contrasti e quindi per questo che ci vuole una squadra presente da un punto di vista mentale per affrontare una gara di questo tipo e certamente anche da un punto di vista fisico perché loro sono anche una squadra molto strutturata nei difensori, anche nell'attaccante, nei centrocampisti, quindi sicuramente sarà una gara molto di temperamento, di contrasti e quindi lì bisogna farsi trovare assolutamente pronti. Un punto in tre partite, questi risultati hanno influito negativamente sulla testa dei giocatori o no? I risultati, siamo sempre un po' figli dei risultati. È vero che c'è anche sconfitta e sconfitta, è normale che la sconfitta ti lascia sempre qualche strascico però è indubbio che le prestazioni fino adesso ci sono sempre state, però naturalmente come ho detto prima questo ormai non basta e alla prestazione bisogna aggiungere quelle cose che servono per poi abbinarci anche i risultati come abbiamo fatto nei turni precedenti. Per quanto riguarda la formazione si sono allenati a parte, mi pare giudici, compagnon, carraro, sono tutti e tre fuori? Sì, per la partita di domani sì. L'unico vero sostituto che bisogna cercare per i tre è compagnon, perché compagnon era un titolare. Può essere Manzari il candidato ideale? Sì, può essere, perché è un ragazzo che ormai si è inserito bene, sta lavorando bene, ha le caratteristiche giuste anche per fare questa partita, quindi sicuramente sì. Mister, la partita col Bari vi ha lasciato l'amaro in bocca più di quella col Palermo o meno? Di più perché secondo me col Palermo, nonostante il risultato, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, quindi abbiamo fatto una prestazione secondo me di alto livello contro una squadra in questo momento probabilmente la più in forma del campionato, con delle individualità importanti, abbiamo giocato veramente per larghi tratti alla pari e soprattutto abbiamo creato tantissime opportunità per fare golla, quindi è una prestazione che comunque per me rimane una prestazione positiva. Col Bari è stata una partita super equilibrata, incanalata sullo 0-0, dove un episodio poi ci è andato contro, però secondo me potevamo fare qualcosa di meglio. E' chiaro che la caratteristica che noi dobbiamo avere è che per fare dei risultati noi dobbiamo essere sempre al 110%, mantenere questo livello alto di attenzione, di condizione fisica, eccetera, ovviamente come ho sempre detto nel lungo periodo non è semplice, però noi dobbiamo fare in tutti i modi di riuscirci perché solo così riusciamo a fare il risultato. Voi, e in globo anche la gestione precedente alla sua, avete una stagione pesantemente condizionata dall'avvio, la lunga e bella rincorsa tra fine anno e gennaio, poi due stop e uno si ritrova in una situazione che non è la stessa ma è comunque pesante. Come si esce da questo momento? Perché le possibilità di sbagliare che ogni squadra ha, per voi sono ridotte al lumicino? Sì, esatto, è proprio questo il peso che poi ti porti a dietro per tutto l'anno perché nonostante una media punti nell'ultimo periodo elevata, poi al minimo intoppo ti ritrovi di nuovo sotto, sott'acqua, quindi questa è una condizione con la quale dovremmo convivere fino alla fine, lo sapevamo dall'inizio, già il fatto di essere riusciti a fare questa rincorsa è un fattore enormemente positivo perché ti consente di essere in questo momento, siamo vivi, siamo assolutamente dentro il campionato per giocarci alla fine, quindi questo è estremamente positivo, è logico che la più grande difficoltà in un percorso del genere è proprio quella che hai detto tu, cioè quella che ti rendi proprio conto che puoi sbagliare pochissimo, non puoi sbagliare quasi niente e questo sicuramente da un punto di vista nervoso, da un punto di vista mentale è un qualcosa che ti spreme molto di più rispetto magari ad altre squadre, no? perché anche le squadre che sono vicine a noi hanno avuto dei cali di tensione, eccetera, ci sono squadre più amanti di noi in classifica che stanno viaggiando anche a una media punti nettamente inferiore alla nostra, però è logico che quel margine che ti sei costruito ti consente di rimanere a galla, in questo caso noi non abbiamo questo margine, quindi dobbiamo imparare a convivere anche con questa situazione. Ascoli, Spezia, Samp, 8 giorni di fuoco, non le chiedo se sono 3 partite fondamentali perché mi immagino già la risposta, però mi chiedo come si gestisce un gruppo e in particolare come Zaffaroni pensa di gestire questa Feralpi perché qualche cambio andrà fatto per via degli infortuni, perché qualche giocatore non è al meglio, perché ci sono 3 partite in 8 giorni. Sì, secondo me la cosa migliore da fare è pensare a una partita alla volta, quindi adesso siamo reddici da una settimana di lavoro, domani tireremo le somme su quelle che sono le condizioni fisiche di tutta la squadra e poi pensiamo alla partita di domani. Questo è fondamentale senza farsi condizionare minimamente dal fatto che poi c'è un'altra partita dopo pochi giorni o un'altra ancora la settimana prossima. Noi proprio per il motivo che abbiamo analizzato prima siamo obbligati e assolutamente dobbiamo concentrarci su questa partita, cercare di mettere in campo tutto quello che abbiamo in questa partita e poi da sabato sera cominciare a pensare all'altro. Voltan? Voltan questa settimana si è allenato con regolarità, con la squadra, quindi piano piano sta tornando a disposizione, riduce ovviamente da un periodo di inattività lungo e quindi adesso quello che deve acquisire è la familiarità col campo, con i contrasti, con i teckel, con questa cosa qua perché adesso da un punto di vista fisico il ginocchio sta bene, quindi da quel punto di vista è a posto, adesso deve solo ritrovare quella brillantezza, quell'abitudine a fare quello che ha sempre fatto. Quindi oltre ai tre che abbiamo detto prima, Carraro, Giudici, Giudici a proposito quanto tempo? Sì, penso che la settimana prossima rientrerà. Ecco, oltre ai tre che abbiamo detto, chi è sicuramente via? Adesso dobbiamo vedere, normalmente di domani ci sono alcune situazioni da analizzare, Zennaro che settimana scorsa si è dovuto fermare nell'allenamento di rifinitura perché ha avuto un ricotizzarsi alla pubalgia, dobbiamo valutarlo domani se può essere a disposizione, e poi Attis questa settimana ha avuto qualche acciacco e anche lui dobbiamo vedere domani se può essere a disposizione o no. L'ultima cosa le chiedo di Letizia, anche perché a Bari abbiamo visto un felice in difficoltà, non credo troppo per problemi suoi, però vi conoscono anche, quindi anche gli avversari cercano di prendere adesso le adeguate contromisure. L'inserimento di Letizia è possibile ed eventualmente se sì, dal primo minuto a gara in corso? Sì, sì, è possibile perché comunque ha aggiunto un'altra settimana di lavoro, anche lui è un ragazzo che ha, come dicevo settimana scorsa, ha avuto un periodo un po' travagliato, adesso è già da due settimane che si allena con la squadra, quindi la condizione sta crescendo anche per lui. Come sempre dico, quando si è riduci da problemi muscolari e da un periodo un pelino lungo di inattività, bisogna essere molto attenti in queste cose, però adesso ho messo dentro due settimane di lavoro, quindi domani credo che possa essere a disposizione. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro.